Sorrento ritorna a capitale internazionale del crime cinematografico e televisivo. Si ripete l'appuntamento con gli incontri del cinema, che dal 13 al 17 aprile prevede una serie di anteprime assolute aperte al pubblico, rassegne di classici e numerosi ospiti tra registi, scrittori, sceneggiatori e attori. Un programma che intende portare la Campania al centro dell'attenzione dell'industria dell'autovisivo, alimentandone così la capacità di attrazione turistica, come racconta il direttore artistico della manifestazione, Remigio Trucchio. Ci siamo evoluti, ci siamo aggiornati nei tempi, parleremo nel corso degli anni, ogni anno, di un genere cinematografico, come quest'anno, che per noi veniamo a considerare un anno zero, parleremo del crime. Il crime in tutte le sue sfaccettature, quindi avremo degli incontri, perché sono incontri di Sorrento, tra i protagonisti del poliziesco, del noir, del giallo italiano e internazionale, avremo anteprime, anteprime sia per quanto riguarda la tv, quindi avremo anteprime di lusso di Sky, che porterà in visione in anteprime assoluta due grandi progetti, e poi ovviamente anteprime cinematografiche. Alla presentazione della serie di incontri, tenuta nella sede della Film Commission della Regione Campania, ha preso parte il dirigente del settore eventi e cultura del Comune di Sorrento, Antonino Giammarino, che ha così motivato la scelta di rilanciare questa manifestazione. Abbiamo pensato, ma noi abbiamo ancora questo marchio così forte, siamo una città di cinema e di immaginario, perché non rilanciare questa manifestazione? Naturalmente la manifestazione non poteva assolutamente essere quella che era, e quindi abbiamo cominciato a ragionare, ad aprirla all'audiovisivo in generale, quindi alla cultura seriale, alle serie, alle fiction televisive, ragionando invece su un focus, su un argomento, su praticamente un genere, in questo caso il crime.